Il mattino fuori, dovete andare, è giunta l'ora, subito fuori, dovete andare, e proseguendo poi, oi lì, per Valle Cosmeana, oi lì, si apri sul lato fada, su quella vetta la paionetta, la paionetta scintillerà, su quella vetta la paionetta, la paionetta scintillerà. Presentiamo il gruppo Salani Nostrani dell'Alge Vod.